Lo chiamano già Miracolo Monique. Lei è Monique van der Foss, 26 anni olandese, la cui storia sembra racconta gli atto fine degno di ogni Natale. Monique, atleta che alle paraolimpiadi di Pechino nel 2008 aveva conquistato due argenti, dovrà mettere definitivamente nel cassetto il sogno di partecipare a quelle di Londra 2012. E ne è sicuramente più che felice, perché Monique, dopo dieci anni in cui è stata costretta alla sedia a rotelle, è tornata a camminare. Il calvario dell'atleta olandese inizia infatti nel 2000, quando in seguito a strani dolori all'anca viene operata. Ma sotto i ferri accade qualcosa e perde l'uso prima di una gamba e poi anche dell'altra. Per Monique inizia così una nuova esistenza, ma la giovane non si arrende e si butta anima e corpo nello sport, scegliendo l'handy bike, una bici da corsa che si muove grazie alle braccia, arrivando a 30 ore di allenamenti la settimana e diventando una campionessa. Ma la vita di Monique era tutt'altro che segnata. Ecco infatti l'ennesima svolta, la giovane torna a camminare e con la terza vita di Monique arriva anche un nuovo sogno. Il mio sogno è quello di correre un giorno la maratona e sarebbe il massimo se potessi mai vincere l'Ironman come non disabile, ma questo è un obiettivo alto per qualsiasi essere umano e non so se sarà realizzabile. Ma passo dopo passo voglio migliorarmi per tirare fuori da me stessa tutto il possibile, non solo nello sport, anche nella mia vita sociale voglio realizzare qualcosa.